questa è una fungaia spettacolo maestro domenica non c'era niente allora ce n'è uno qua poi ce n'è un altro qua sotto poi c'è questo fungaia spettacolo porcini bellissimi e qualità eccezionale poi andiamo qua uno qua un altro qua preparati alla bomba una bomba qua un altro là incredibile maestro incredibile poi ce n'è un altro qua